E' stata conclusa dalla Polizia di Stato un'articolata attività investigativa che ha permesso di arrestare i pusher che spacciavano all'esterno e all'interno del cimitero di Prima Porta di Roma. Con l'operazione Faraone infatti sono state eseguite sette misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Roma a carico di altrettanti cittadini nordafricani indagati per aver gestito in concorso una fiorente attività di spaccio. Nel corso dell'attività investigativa è stata riscontrata l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio gestita dal gruppo criminale che utilizzava come copertura per l'illecita attività alcuni furgoni adibiti alla vendita dei fiori del cimitero. L'indagine ha permesso di smantellare l'organizzazione con base logistica nel cimitero dove era occultata la droga venduta sulla via Flaminia. Lo spacciatore apparentemente al lavoro tra i banchi di vendita dei fiori sostando sul ciglio della strada veniva avvicinato dall'autovettura con a bordo il cliente che senza scendere dal mezzo dopo aver preso contatti diretti con il pusher riceveva la quantità di droga richiesta a fronte del pagamento. Il cimitero era il luogo dove la droga veniva preparata e confezionata in dosi e nascosta dentro le cappelle e i mausolei tombali pronta per essere venduta.